Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo di nuovo su Pokémon GO per parlare di nuovo di un'idea aggiornamento, visto che lo scorso video vi era piaciuto abbastanza quindi ho detto ok, lo riproponiamo, purtroppo l'orario è intorno alle 7 tenterò di portare tutto con regolarità da domani detto questo, ci andiamo a catturare subito un grandissimo Pokémon ultima news da darvi, ma probabilmente ci sarete anche un'idea solo, è questa qua dietro che siamo tornati a Roma, esatto, con il mio bel computer fisso, quindi possiamo fare tante belle cose detto questo oggi sta per spawnare un Pokémon clamoroso, davvero incredibile uno di Pokémon forse più rari del gioco, Chansei, davvero, davvero fortissimo sto Pokémon è forte perché è forte Chansei? perché non ha, non è che abbia chissà quali PL o quali statistiche fenomenali da attacco o di difesa, bensì questo Pokémon ha una quantità di PS incredibile ha davvero davvero tantissimi PS, se lo riuscite a portare all'ultimo livello è qualcosa di clamoroso nelle palestre, è imbattibile se ha una buona mossa è davvero davvero molto molto forte può sbaragliare qualsiasi tipo di Pokémon, è una figata adesso lo andiamo a catturare al 123, so che non è tanto ma fidatevi che, cioè, ha potenziale sto Pokémon più le caramelle, insomma, dovrebbe arrivare tanto tanto in alto non so di preciso quanti PS abbia, però fidatevi che è messo davvero davvero strabene ora, altra cosa importante lo scorso episodio, eccolo qua, Chansei registrato nel Pokédex vediamo il tutto ok, aspettate, messaggio tattico, perfetto Iperragio Cozzata Zen ben 3 caramelle rare ci ho dato ovviamente abbiamo quanti di Wolverine Stelle infinita, potenziamento 800 Wolverine Stelle e una caramella molto 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 buono 176 PS in aumento notevole più 7, poi farà più 8 probabilmente più 8, più 6, no, diminuisce più 6, ancora, portacelo più in alto più 7, ok, va bene, più 6, più 7 va bene ragazzoli adesso andiamo 144 visti, 142 catturati questo account sta andando davvero strabene come al solito, questo è tutto a scopo dimostrativo e tutto il resto il gameplay farà soltanto da sfondo a quello che devo dirvi io vi ricordate, nel scorso episodio abbiamo parlato di Recoentei Sukune possibili nuovi Pokémon oppure una nuova possibilità del tipo cosa aggiungeranno in futuro cosa aggiungerei io in Pokémon GO detto questo, oggi andiamo a parlare di un altro argomento interessante cambiamo il Pokémon volevo mettere al posto di Farfet volevo metterci Chansei perché secondo me conviene nel senso, ambulanze che passano a tutte le ore qua a Roma, d'altronde, è così possiamo cambiare il compagno perché a parte Farfet che è un Pokémon che è figo non ricordo bene come si chiama se l'ho chiamato bene chiedo Venia se ho fatto qualche errore del cazzo in tutti i casi ecco qua Chansei il nuovo compagno di squadra attenzione fenomenale proprio lui ok, va bene ci siamo e detto questo vi ricordate lo scorso episodio Recoentei Sukune ok, quest'anno quest'oggi andiamo a parlare di un altro argomento che secondo me è fondamentale cioè sarebbe fondamentale da inserire in Pokémon GO non a livelli di magari di una storia però secondo me potrebbe essere figa l'idea i Pokémon Shiny ok, nel senso come funzionerebbero secondo me attualmente come funzionano i giochi Pokémon se la possibilità cioè è scritto nei codici di Pokémon che voi potete far spawnare tra virgolette un Pokémon Shiny con una probabilità di uno su circa un milione e qualcosa quindi molto detto questo la possibilità ok, c'è è remotissima però c'è effettivamente c'è che cosa a che cosa vai incontro è che su Pokémon GO spawn una quantità di Pokémon infinita c'è davvero tantissimi Pokémon ogni giorno quindi l'idea sarebbe magari una volta al giorno può spawnare un Pokémon Shiny figa tanta roba cioè se ti spawna un Pokémon Shiny vedete su Poké Sniper c'è la sezione All poi Uncommon Rare Super Rari e poi c'è Legendary tipo quella Legendary è sempre vuoto io aggiungerei una nuova suddivisione in tipo Shiny in cui una volta al giorno nell'arco delle 24 ore può spawnare un Pokémon Shiny in una parte remotissima del mondo e voi lo andrete a catturare ovviamente tramite le hack sarà molto facile perché ti appare il Pokémon oh c'è un Pokémon Shiny tu lo vai a catturare lo catturi e sei felice e contento ok un attimo ho perso la telecamera ok questo è quanto questa è la mia idea di Pokémon Shiny e sarebbe veramente figo oppure magari un altro modo per ottenere i Pokémon Shiny potrebbe essere tramite le caramelle dato che io non posso stare H24 in tutte le parti del mondo perché il Pokémon Shiny ti dura magari 20 minuti però tu in 20 minuti non potrai mai arrivare dall'altra parte del globo quindi l'idea che qual è? qual è la tua idea? è che tu con il doppio delle caramelle all'ultima evoluzione possa far diventare il Pokémon Shiny per esempio Magikarp 400 caramelle diventa Geridos 800 caramelle diventa Red Geridos tantissima roba e sarebbe figo con 800 caramelle ti crei fuori un Pokémon rosso che per carità non avrà statistiche magari con le statistiche poco poco più alte però sa vede che è figata cioè dovrebbe essere davvero qualcosa di incredibile davvero meraviglioso a me che sarebbe una cosa infinita avere un Red Geridos è spawnato un piccolo Dragonite che adesso andremo a catturare insomma Geridos rosso sarebbe davvero davvero molto molto figo secondo il mio punto di vista però so che non è sempre cioè che queste sono fantasie e tutto il resto non penso siano ancora state inserite i Pokémon Shiny all'interno di Pokémon Go però questa era la mia personalissima idea fatemi sapere un po' voi come al solito sotto nei commenti che cosa ne pensate adesso ci andiamo a catturare questo Dragonite che spawnerà come al solito tra praticamente pochissimo eccolo qua Dragonite sto in mezzo a un Dragonite a cavalco Dragonite spostiamo un attimo solito screenshot e poi iniziamo la battaglia è figo but first let me take a selfie con Dragonite eeeh quanto cazzo c'ho a me ok eccolo qua il selfie perfetto apriamo la battaglia Dragonite 1220 non che sia un Pokémon fortissima però è sempre un cazzo di Dragonite ce ne torniamo a casa eccolo qua teletrasporto adesso si passa alla cattura Bacca Lampon è difficile catturare Dragonite non è facile devo essere sincero un Pokémon particolare molto forte quindi ti può scappare assolutamente si bisogna utilizzare Ultra Ball e in tutti i casi il pallino è piccolo ed è rosso quindi c'è abbastanza possibilità che ci scappe che ci faccia usare un sacco di Ultra Ball infatti il Bavoso non ci permette ecco qua continua a fare sta roba e dà abbastanza sui nervi per esempio un Pokémon fighissimo secondo me sarebbe Dragonite Shiny che non ricordo bene adesso che versione in che colorazione possa essere stato magari andiamo a controllare dato che ho il video già in loop posso fare ricerche Dragonite Shiny vi dico adesso le varie colorazioni dei Pokémon Shiny Dragonite Shiny è verde con le ali viola una figata estrema Charizard per esempio è tutto nero una figata anche lui Charizard nero è tanta roba che altro Pokémon potrebbe essere interessante trovare di una colorazione differente Pikachu Pikachu sapete non ricordo che colorazione possa avere Shiny e non me lo dice nemmeno Pikachu Shiny aspettate un attimo e la connessione è quella che è ragazzuoli comunque cioè vabbè sarebbe veramente figo è tipo arancione un arancione particolare ma mica nulla di particolarmente eccessivo Pikachu è arancione sì non è giallo è arancione una roba del genere poi c'è tutte le varie evoluzioni insomma davvero davvero una figata sarebbe figo a me piacerebbe davvero tantissimo poter catturare Pokémon di queste colorazioni differenti magari farle evolvere soltanto adesso ci andiamo a catturare un Onix tantissima roba Onix se non ricordo Shiny dovrebbe essere no rosso no sicuramente no perché cazzo non è che lo fanno uguale a Geridos Onix Shiny vediamo io non me li ricordo le colorazioni è tipo un giallognolo particolare molto molto figo un Onix Shiny anche questo potrebbe essere una figata poi l'evoluzione anche di Onix no perché come ben sapete Onix nella prima generazione non si evolve già nella seconda ha un'evoluzione possibile Onix oppure un altimo Pokémon che potrebbe andare aveva Blastoise Blastoise non ricordo bene di che colore possa essere viola viola con il guscio verde una figata anche Blastoise insomma ragazzoli fatemi sapere che cosa ne pensate in merito a questi Pokémon di colorazioni diverse potrebbero essere davvero una svolta in questo mondo di Pokémon GO insieme a tanti altri ovviamente aggiornamenti detto questo volevo anche invitarvi a commentare con la vostra idea come vedete i Pokémon Shiny e soprattutto come altre idee di aggiornamento che potrebbero venire in mente magari qualche cosa che volete vedere in Pokémon GO magari mi preparo un video e ce lo facciamo e ne parliamo così come al solito suggeritemi idee per i prossimi video ragazzuoli detto questo ci andiamo a catturare Stonics al 447 una bestia proviamo a dare un sacco di supporto a sta serie perché ho visto i video scorsi vi piacevano tantissimo tento di riproporveli e tutto il resto abbiamo trovato anche un sistema di far miniature veramente molto figo davvero ringrazio il mio grafico che è sempre gentilissimo e disponibile soprattutto ad aiutarmi ragazzuoli penso che per questo video possa essere a tutti i primi alzati se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se avete già fatto di condividere il video su Facebook e fammi lasciare le persone mi raccomando passate in tutti i link in descrizione Facebook, Instagram e Telegram e noi ci vediamo come al solito a un prossimo video ciao a tutti ragazzi